le preziosità su questa nuova serie di canne non mancano vengono proposte con il tappo in eva che è ottimo quando si sceglie di appuntare la canna a lingua in attesa di ferrato oppure appoggiarla tra gli scogli una placca molto molto bella in acciaio inox con doppia guancia interna di gomma che blocca perfettamente anche i mulinelli più piccoli sono azioni energiche quelle scelte da me e chiaramente da ruggiero però vi garantisco che grazie al carbonio grazie alla tecnologia e grazie a tutte le particolarità di queste bolognesi risultano estremamente leggere e al contempo potenti grazie a tutti